Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo su Playlink Ovviamente guardate qua Senza aver battuto una modalità Forse ho provato all'inizio batteri Confondendomi Pensavo di aver fatto normale Ma L'arma biologica è difficile Adesso Io Faccio Brutale del parassi Scusa Andiamo indietro E guardate Posso avere i trucchi Non so perché sta cosa è caduta Non impingereci Posso avere i trucchi Faccio evol... Ebbene Posso evolvere come un dio Impossibile di cercare la cura Dopo c'è Poco questo Fare indietro Brutale E ovviamente E' quella volta lì che ho provato a fare batteri Confondendo Ma di sicuro Guardate Poi ci sono le varie trasmissioni Che a cui bestiame Ma no Volevo involvere No Il calco L'uomo lì Se volete leggere Stupate il video Sì Che ci avevi Sì 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 Che bello Abilità Se faccio così Perché non voglio essere beccato Così Così Almeno se ne cattura No Adesso Lo produce Il laboratorio Inizio in Canada Potete vedere Quanto sono mortale E potete vedere Quanto posso essere mortale Dale Sì Io sul tablet Dove non ho mobili Ok adesso vado con il tablet Ho installato un blocco E ovviamente Non ho i trucchi Perché costano Perché costano E' difficile farmi Mi rischio Adesso è diventato Fatto buono Mamà Ci sono tre punti di anna alla volta Tanto non ve ne faccio niente Qua è uno Quindi non è che Avete capito Benissimo Benissimo Due Qua è che semmo Volevi tollevi Cramere E la vittoria Dammi Dammi L'applicazione Benissimo Ficare Qua è che 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 facile la vita o come può essere anche difficile voglio che sta l'uomo bise non posso mi posso iniziare con i x sì ma questo andrò dal medico dicendo ho tutto prima parte in korea 2 milio leggete voi che tanto sto leggendo sto giocando e sto anche registrando non ho capito cosa si mangia stasera mamma cosa si mangia stasera cosa si mangia stasera e che cosa a che cosa what carne what al sugo ho deciso più persone del viola quindi quindi gli aggiungiamo i raggiungiamo i quanti mi piace i cin i quattro mi piace il raggiungiamo i quattro mi piace e il prossimo video se la mia connessione riesce sarà di roblox quindi ricordate spoliciate commentate e soprattutto condividete qua è tutto da venerdieci un attimo no non è tutto scusate ho sbagliato anche se non raggiungiamo i quattro mi piace ovviamente farò roblox ma sarei più contento ricercatori ricercatori globali che è globale concentrata sulla cura intanto se la mia malattia si muove un milione al giorno io sto a come si dice a estinzione tanto carico il tablet anche se carico non fa niente farò un'azione utile nel tempo ecco che cavolo sta ah roblox prossimo qua è tutto da bene 10 per un prossimo episodio di roblox raggiungiamo come detto 4 mi piace qua è tutto da ci dice ciao gente